bella ragazzi siamo i granas e siamo tornati con un nuovo episodio di ogni gol qualcosa qualcosa e oggi ogni gol limone mamma è apparci il limone ogni gol avremo uno spicchio di limone non sono ovviamente tutti i regolari che li batteremo dal più grande chi prende il primo gol prenderà il più grande 1 2 3 Watford no ma da ma che è dai è uguale è che vuol dire perché il mio non è da Bertha Spammer 2 un bel che ha il calmo un po' mamma è un po' ma io c'ho da sti miei che non lo so se c'è la c'è la classica no dai ho chiesto ma è la mafia la mafia che Watford è troppo forte capelliè anche il sabato orosabatogo orosabatogo siamo il sabato tutto posto ma che è nooo 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 ma che è il clera moro ma che è il clera moro il clera moro ma che è il clera moro ma che è il clera moro ma che è siamo in mezzo a giù ragazzi ma come cazzo zazza quello grosso quello che è il primo guarda tutto spremi spremi nooo 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 è freddissimo è troppo grosso questo è davvero oddio come gioca il tiro da fuori nooo come gioca la cosa non ho fatto un capito non ho fatto un cazzo sto vincendo sabato effetto che quando hai fatto salvo 度 mamma mia 8 volte l'ha dovuto dire si muo vuoi far segnare perché così dici no non è una pippa ma non segna perché è una pippa SABATOKO semplicemente lui sempre lui ma non puoi far sto tiro del maratona SABATOKO basta basta muo rompo scusami muo non ha fatto una cosa giusta non ne ha fatto una davvero che giropalla il Watford che giropalla mamma mia come il bayern come il bayern per vidra 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 tu cazzo va vidra ma che cazzo perde la palla non c'è arriva ma guarda che ha preso paratone no 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 chiudi chiudilo tu cazzo se ne va se ne va geni no sta tornando pericorder ma come stai arbitro è scritto così va vabbè è economismo sweetness edey incredibile venga, non so qual è la più grossa non vero, mi arrivo da voglia di limone troidini c'è la bucca troppo piccola andiamo un po è difficile dei premi x tu ti mani a tutto eh e tu ti mani a tutto un dazzard a posarlo ma che è tutto tu dà, c'è io voglio dire che mi chiede ecco ovvio pacchetto oh ma io ho la palla che è che io no, non c'entra un pizzo dunque abbiamo deciso di andare ai supplementari perchè uno uno è triste quindi classico mamma mia quanto lo odio quando caldo calci ottimo oddio grande lo stis guarda che culo no no piatta aiutare ancora un'opera poco appunti e salsino che balla sempre e salsi ma che anche dolce no no agrodolce bello no bello si e lo chiudete ma perché fa sti stop di merda bello Pidra! Pidra! Mamma mia l'hostis! Se li caga tutti da là! Quello è infortunato ma sti cazzi dobbiamo lottare! Oh! Oh! Sadi! 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 Uno è favoreggiato da me ovviamente! Vai 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 vai! Schifo pare che sta affando! Oh! Poh schifo questo! Vai 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 metti la metti la metti la in gioco! Che schifo! Ma che è? Ma che è? Non lo so! Che è tipo di uomo davide? No è tipo boom! Un diverbero strano mi c'è avuto! Oh mio d'altro se si mi sa come in cazzo! Ma dai eh! Mamma mia! Ma che cazzo eh! Sadi! Mamma mia! è vera madonna è entrata assassina proprio bello, bello, bello se n'è andato se te lo cachi ti giuro lancio il joystick porcaccia la droia la pesa la pesa la pesa la pesa la pesa tra l'altro c'è ce ne rimane uno ce ne rimane uno a questo punto se pure andiamo in rigori quello che vince l'altro sembra un limone esatto ti piace il limone eh guarda che cosa aspetta che è trogusto a me mi vizzi cacono perchè ma che c'ho era andata limone la no ma ecco perchè cadroglia vai ducimo oh no che culo che culo come cazzo se ne mangiato angela se non si se non si se non si se non si pezzo di merda allora attenzione sfida ai rigori ma avanti ma frega un cazzo sfida ai rigori chi vince l'altro se mangiare il limone torino cazzo no il limone si avvicina il limone si avvicina sabato ma la cosa sarà una cosa per costruire torsero torsero e no 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 ma non ci sono i miei vittoria i miei vittoria cazzo vittoria vittoria mangio mangio ma il 10 da guarda portisti Ah, oh, ma che se esci? Sto muovendo gli occhi? Ma che... Ma ce l'ho messo qua dentro l'occhio Ma è schifo questo Che cazzo d'è qua? Sì, perché volevo parlare di rigore E di rigore non parla E di rigore non c'è stata La faccia da schifo Ci becchiamo al prossimo video Ogni gol qualcosa E dai granis è tutto Bella